Una donna in fuga dalla Siria con i quattro figli piccoli tra i 5 e i 10 anni d'età è stata trovata dalla polizia di frontiera e dalla Polfer ieri mattina nei pressi dello scalo ferroviario confinario di Villa Upicina a bordo di un carro merci proveniente dalla Serbia. La donna è stata trovata dagli agenti in seguito a una segnalazione del personale delle ferrovie dello Stato. I 5 attraverso la rotta balcanica per la precisione lungo la tratta dove un tempo correva all'Oriente Express viaggiavano al freddo di un vagone sul treno merci proveniente dalla Serbia e diretto a Ravenna contenente materiale edile e argilla. Sul posto sono arrivati anche gli operatori della Croce Rossa e i vigili del fuoco che hanno aiutato la famiglia a uscire dal vagone dando loro i primi soccorsi date le temperature piuttosto rigide. Madre e figli sono stati infine accolti in una struttura della Caritas in città. Le loro condizioni sarebbero buone. Gli operatori attendono che si riprendano dal lungo viaggio per ascoltare il loro racconto.